Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. In questo episodio giocheremo l'episodio 15, Stranezze d'altro mondo, e penso possa essere forse l'ultimo, o il penultimo. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo a giocare l'episodio 15. Stranezze dall'altro mondo, luogo nascondiglio dell'altra dimensione. Ok, attenzione qui che attaccano subito. Diamo un'occhiata alle sfide poi. Eccoci qua, no dai, non doveva prendermi quello. Ecco fatto, diamo un'occhiata alle sfide. Confeggi 4 nemici usando trappole. Completa il livello senza farti afferrare più di 2 volte. Non farti ferire più di 3 volte da ostacoli. Ok, sono fattibili in realtà. Io ho potuto usare questo. Oh, oh! Eccolo che arriva questo con il robot. Cosa che odio. Vai! Disintegriamolo. Aia, che botta. Ok. Attacca, bravo. Ma sono di qua io comunque, eh. Non per dire però. Aia, ok. Mi ha preso. Crepa, stronzo. Ok. Noi ricarichiamoci. Ricarichiamoci le special. Io con Donatello siamo a livello 8. Quindi abbiamo anche sbloccato la modalità ninja lì, modalità critica. Ok, qua possiamo eliminarli con le trappole. Aia, volevo usare il mio special qui. Ok. Bene, fuori. Cosa c'è? Uh. Perfetto. Fatto. Io non devo farmi ferire dagli ostacoli. Bisogna stare attento anche agli ostacoli. Ok. Aia, che botta. Perfetto. Ricarichiamoci. Siamo in dirittura d'arrivo, eh. In questo videogioco. Ok, qui abbiamo una pizza. Ottimo. E poi distruggiamo tutti con le special. Ok. Prendiamo la pizza e andiamo. Pizza time. Adesso cosa fanno? Oddio. Oddio. Attenti a questo, eh. Ok, se ne sono andati. Bene. Fuori. Vado a questi. Ecco come si... Ecco come si fa con questi. Ok. Ma qua lo posso prendere? Magari no. Guardate quello lì è shredder. Bene. Ah, ti fermi, eh. Quando trovi le spunzioni di... Vai. Special. E addio. Uh, cristallino. Mio. Facciamo saltare tutto qui. La pizza, ottimo. Vai, vai. Facciamo saltare tutto, qualche meglio. Poi possiamo prenderci la pizza. Ah, non la possiamo prendere perché siamo già... Al massimo. Io qui non voglio rischiare, quindi... Aspetto che escono anche gli altri e poi vado. Ok. Attenzione. Scappano. Uh, i dinosauri. Oh no, volevo usare uno special qui in mezzo. Vai. Ok. Buono. Ricarichiamoci. Sì, solo un minuto. Allora. Uh, uh. Quanti siete? Non abbastanza, a quanto pare. Ahia, che botta. Se intanto voi venite uccisi da quel cosi... E io vi ammazzo l'amichetto qui. Ahah. E se muori, muori. Bravo. Bravo scemo. Ok, io posso passare qui. Qui cosa abbiamo? Ninja Time. Aia, che botta. Guarda, crepa con questo tu e non rompere le palle. E tu fai così. Perfetto. Ricarichiamo la nostra energia. Lì c'era una trappola che avremmo potuto utilizzare comunque. Questa. Oh no, è un mostro di pizza. No dai, non devo farmi afferrare. Ma dai. Via, fuori tutti. Eh niente. Perso. Ma contro sti cosi qui non farsi afferrare è quasi impossibile. Guardate. Cioè dovete tipo avere un tempismo... Anche abbastanza fortuna in realtà. Vedete? Vedete? È quasi impossibile. Guardate, ne metto un po' così tanti, tra l'altro. Non fai nemmeno tempo a girarti. Tra l'altro con Donatello che attacca abbastanza lentamente. È anche un po' più difficile. Anche se ha raggio effettivamente. Ha molto range. Quindi... Da quel punto di vista è avvantaggiato. Andiamo. Ok. Qui è il momento di usare un'altra special. Ecco fatto. E ricarichiamoci. Perfetto. Ok, qui possiamo usare questo per abbattere qualcuno che sta per arrivare. Guardate che quanti robottini. Vai, azioniamolo. E via tutti. E poi... Boom. Oh sì. Oh sì. Oh sì. Vai, ricarichiamoci. Che soddisfazione quando usi la special e uccidi tutti. Tipo qui. Ole. Sì sì, effettivamente è molto facile con le special, eh. Anche se sto per crepare è comunque molto facile. Why? Pizza power. Easy. Mi danno pure una pizza qui, quindi... Sono super gentili. I am invincible. Eccolo finalmente il corpo che è stato creato. Vabbè, se non c'è Shredder, probabilmente questo non è l'ultimo livello allora. Kang. Il cervello cianciante. Aia, che botta. Cos'è che fa questo? Ok, poi questo attacco. Vai, fallo di nuovo. Se sei tutto così vecchio, sei un po' scarso, eh. Non voglio dire. Ah no, eccolo, eccolo, eccolo. Eccolo che parte. Aia. Ah, ora sono in due. Però posso far danno solo a Kang. Kang. Eh sì. Usa pure la tua merda lì, tanto io qui. Vai, vai, usala pure. Eccolo, eccolo che parte. Qui sono invulnerabile. Vabbè. Facciamo io però che ci vado contro. Aia. Vai. Bravo. Aia. Niente, oh. Eccolo che riparte con questo suo attacco. Bisogna solamente evitarlo. Eh, lui è invulnerabile in questo momento. Devo solo evitare i suoi attacchi. Ok, ed ora... Cominciamolo un po' per le feste. Eh sì. Attacca pure così e io ti disintegro. Krang. Oh, finalmente. Ma come è incazzato il cervello? Proprio era... Era di così. Ha una sorpresa per noi? Quindi non è ancora finito. Oddio. Bisogna combattere contro lui ora? Shredder! Pronti per la vendetta. Oddio. Dammi la pizza, va. Eccolo che se ne va. Tutti insieme? Ah, bene, bene, bene. Questo però era il falso. Aia. Perché ha attaccato dietro? E' fuori pure lui, che era il falso. Ah, apparenti un po' di botte, va. Eccolo. L'ho trovato, è lui questo, vero? Ok. Posso caricarmi un po'? Grazie. Posso caricarmi ancora? Non sei gentilissimo, caro Shredder. Sì? Guardalo. Sei gentilissimo, Shredder. Cioè, ti lascia ricaricare così? Vai, vai. Sì, sì. Dai, crepa. Non sei tu. È lui. Ho questo qui. No, dai, ho perso una vita. Per niente, proprio. Perché sarebbe morto in questo momento. Peccato. Ok. Episodio 15. Terminato. Abbiamo così finito la storia? Vediamo. Ah, no. Shredder non è ancora stato sconfitto. Ecco qua, ok. Ritrovo della dimensione X. È completato la richiesta. Ok. Completato la richiesta e dove devo andare? Andiamo di qua. Livello 16. L'ira della signora. Mi scusi, signora, c'è un posto... C'è un uomo per lei. Comunque, dov'è che devo... Devo consegnare i cristalli? Cerchiamo un po' in giro qui, eh. Qui ci sono le rane. Qui no. Dobbiamo riandare un attimo qui. Zero. Zero proprio. Tra l'altro il collezionabile che ci manca qui è evidentemente allora il... L'unico personaggio che ci manca da salvare. Sì, sì. Quindi, per questo episodio comunque è tutto. Perché nel prossimo episodio affronteremo l'episodio finale. Episodio 16. Quindi, io ti invito a mettere un mi piace se il video ti è piaciuto. A commentare e ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Gratualspear è tutto. Al prossimo video. A commentare e ad iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti.